I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi, affiancati dalle associazioni di categoria Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e Casa Artigiani, contestano la legge approvata nella scorsa seduta di Consiglio regionale, avente ad oggetto norme per il migliore utilizzo delle aree industriali degli ex consorsi, che aprirebbe la strada all'insediamento di nuovi centri commerciali e gallerie commerciali. Secondo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, il governo regionale ancora una volta dimostra di non avere una visione del futuro dell'economia di questa regione e del suo territorio. Questa legge sembrerebbe orientata in particolar modo all'area industriale di Vasto, quella di Punta Penna. Quello che noi vogliamo scongiurare è l'apertura di centri commerciali in zone che sono, come dire, oramai vocate alla riserva naturale e ad aspetti turistici e ambientali e non vogliamo che si desertifichi nuovamente un altro centro storico, in questo caso quello di Vasto. Quello che noi chiediamo al Presidente di Regione Abruzzo è di non promulgare questa legge perché è dannosa per il territorio abruzzese, perché ha, secondo noi, dei profili di legittimità, se dovesse promulgare questa legge il Movimento 5 Stelle segnalerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la legge affinché venga impugnata.